Mario Tozzi eccellente qualità di far conoscere buone idee di come è fatto questo mondo, lui è un geologo, un ricercatore al CNR, ha fatto più trasmissioni televisive, ha scritto libri, questa sera ci parlerà di un... Noi abbiamo voluto dare questo titolo, tra l'altro ci ha anche suggerito lui, che dice appunto il futuro sotto i piedi. Come a dire che c'è della speranza quando il futuro è sotto i piedi, sono i tuoi i piedi e quindi dovresti avere in qualche modo la possibilità di guardare in giù e accorgerti di questo futuro. E se è sotto i tuoi piedi in qualche modo potresti avere, come dire, una qualche dimestichezza e una qualche speranza di dominartelo di fronte all'idea di una catastrofe che invece è imminente. Ovviamente i contenuti di questa riflessione sono anche i contenuti del suo ultimo libro, Pianetta Terra, ultimo atto. Un libro, tra virgolette, appunto pieno di speranza, perché dice che va molto male ma è in mano nostra, è ancora in mano nostra e quindi potrebbe esserci una reciprocienza che ci consente di affrontare i guai che abbiamo autonomamente costruito contro la biosfera. E poi ce ne parlerà, come dire, con l'attualità delle emergenze, compresa quella che anche i calcoli fatti al 2050 non erano poi così sicuri rispetto alle curve del riscaldamento globale, perché di questi giorni la notizia è che invece c'è una accelerazione nel processo di surriscaldamento del pianeta. Io credo che ce ne sia per portarsi a casa delle buone idee, come tentiamo sempre di fare come associazione per le persone che vengono e che sono persone curiose e che quindi ci vengono apposta perché qualche suggestione consente nei tempi morti di una vita frenetica di fare delle riflessioni che vanno un po' più in là della punta del proprio naso. Mi fermo qui e do la parola a Mario. Come è cominciato tutto questo, di cui parlo nel libro, ma insomma questa tematica in cui abbiamo appena accennato, come è cominciato tutto questo? Perché ce lo dobbiamo domandare se vogliamo capire bene in che situazione ci troviamo e dove stiamo andando. Dunque, come è cominciato tutto questo e quando? Allora, proviamo a vedere, tutto è cominciato negli anni 70, quando gli uomini sulla terra hanno cominciato improvvisamente a essere parecchi e si doveva nutrirli tutti quanti e allora ci siamo inventati delle sostanze che ci servivano per coltivare in posti dove altrimenti non sarebbe stato possibile. Abbiamo inventato la rivoluzione verde dell'agricoltura, abbiamo usato il DDT e con le sue caratteristiche negative, quelle che abbiamo imparato a conoscere negli anni, è cominciato tutto negli anni 70? No, no, forse è cominciato tutto ancora dietro nel tempo, è cominciato tutto nel 1850. Più o meno quando gli uomini hanno deciso che quello che avevano non era più sufficiente ma ci serviva invece un'altra rivoluzione precedente nel tempo, una rivoluzione industriale che parte dall'Inghilterra e che modifica addirittura i meccanismi dell'evoluzione. Esisteva in Inghilterra in quegli anni lì, prima del 1850, che prendiamo come data di riferimento della rivoluzione industriale, una farfallina che si chiama Biston Betularia, che aveva una caratteristica di essere una farfallina quasi bianca, che dunque si mimetizzava bene sulle cortecce degli alberi chiari, soprattutto le betulle, ma anche altri, intorno alle grandi città come Londra o Liverpool. Quando è arrivata la produzione di carbone, la fuligine ha invaso tutto quanto, questa farfallina bianca risaltava moltissimo su quegli alberi dove prima invece si salvava perché si poteva mimetizzare. Bianca sul nero veniva predata in maniera indiscriminata dagli uccelli. Casualmente però ogni tanto nasceva una farfallina scura, quelle sono state poi favorite dall'evoluzione e adesso sono tutte scure le biston betularie, ma hanno dovuto adattarsi in qualche misura e il nome gli è rimasto betularia, ma le betulle sono chiare, normalmente quando non c'è fuligine. Ma è cominciato nel 1850? No, è cominciato prima. Forse è cominciata quando gli uomini hanno cominciato, hanno iniziato a usare degli strumenti in maniera razionale per coltivare la terra. Quindi ci dobbiamo spostare ad almeno 10.000 anni fa. Ecco, tutto questo è cominciato 10.000 anni fa. Tutto quello che abbiamo di fronte, il panorama di uomini, cose, attività produttive, impianti, fabbriche, fonte di energia, comincia tutto in quel momento lì. Oddio, l'uomo c'era già sulla terra, per carità. Diciamo che Homo sapiens c'è da circa 200.000 anni, grosso modo. E quindi è un tempo piuttosto significativo per gli uomini, molto poco significativo per la terra. A proposito, ce l'abbiamo bene un'idea di quanto sia lungo il tempo della terra? Perché se no è difficile comprenderci. Il tempo della terra è un tempo lunghissimo. Parliamo di un pianeta che si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa. Ma che vuol dire 4 miliardi e mezzo di anni? Vuol dire un tempo che nemmeno riusciamo a tenere insieme. 4 miliardi e mezzo di anni? Ci vogliono solo dei paragoni, perché altrimenti non lo cogliamo mai. 4 miliardi e mezzo di anni. Ci serve paragonare il tempo della terra a qualcosa di più vicino a noi per capire dove stiamo noi uomini. Noi uomini di 200.000 anni fa, cioè Homo sapiens, quando nasce come tale, quando si evolve come tale. E come possiamo arrivarci a questo tempo? Beh, insomma, si usano un sacco di paragoni. È come se noi guardassimo un gran premio di Formula 1 di 45 giri. e però riusciamo a vedere soltanto l'alettone della macchina che arriva per ultima sul traguardo. Tutto il resto della corsa ce lo siamo perso. I pit stop, quello che altro è successo, qualsiasi cosa. Non ne sappiamo nulla. Non sappiamo nemmeno chi ha vinto, sappiamo però quello che è arrivato per ultimo. Quello lo possiamo sapere. Oppure, ecco, possiamo paragonare l'età della terra allo spazio di un metro da sarta. Quindi diciamo che sono 4 miliardi e mezzo di anni che facciamo uguali a mille millimetri. Il metro che si usa da muratore, quello che volete. Significa che se noi poniamo il momento zero, quando è nata la terra, con lo zero del metro, oggi ci troviamo a mille millimetri, cioè dopo 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi diciamo, andiamo da 4 miliardi e mezzo di anni allo zero oggi e da zero millimetri a un metro, che rappresenta l'oggi. Dove sta Homo sapiens in questo paragone? Sarà forse qualche centesimo dell'ultimo millimetro. Siamo lì. Quindi tutto quello che c'è prima è una storia della terra, della vita pure, per certi versi. Ma i dinosauri in questo paragone stanno a 14 centimetri. Tutto il resto... No, è importante sapere dove ci muoviamo, il tempo di cui parliamo, altrimenti... Quindi è un tempo breve quello di Homo sapiens, anche se per noi è un tempo lungo. Noi che non ci ricordiamo nemmeno come si chiamavano i nostri tre snonni, sappiamo che la terra ha un'età molto più antica. Dicevo questo perché le cose cambiano quando Homo sapiens inventa l'agricoltura. Come fa? Ormai l'abbiamo visto abbastanza bene. Prima Homo sapiens era un cacciatore raccoglitore, se ne andava in giro sostanzialmente con la sua famiglia. Qualche volta un clan, qualche volta una tribù, ma normalmente la sua famiglia. Una famiglia allargata significativamente, in cui le donne morivano di parto, soprattutto. Si facevano abbastanza figli, ma insomma non bastavano mai in realtà. E tutti erano impegnati tutto il giorno nell'attività della caccia e della raccolta. Non facevano altro. Si spostavano continuamente appresso le mandre di grandi animali. A un certo punto, intanto, questi animali cominciano a scarseggiare perché gli uomini si moltiplicano e ne catturano parecchie. Ma poi, d'altro canto, qualcuno pensa che invece di stare lì a raccogliere, forse sarebbe opportuno certe cose farsene da solo, in modo da non dover dipendere dalle traversie, dal tempo, dalla meteorologia, dal fatto che le mandre scappano. E comincia a selezionare, prima inconsapevolmente, poi consapevolmente alcune piante per farle diventare quelle che poi sono diventate. Immaginate che una pannocchia di grano turco in Messico, uno dei posti dove è nata l'agricoltura, era all'inizio forse alta due o tre centimetri, non di più. Oggi ce l'abbiamo da quasi trenta. La papaya non era commestibile, così pure il mango, l'avocado, per stare da quelle parti lì. Ma pure dalle parti nostre, insomma, il grano faceva due chicchi per spiga. Insomma, erano tutte cose che sono nate, poi soprattutto nei posti dove questa gente andava a aspettare le loro funzioni corporali. Siamo stati noi, con il nostro corpo, mangiando queste cose, selezionandole, perché mangiavamo sempre quelle, accumulandole nelle latrine, diciamo così, messo che ci fossero le latrine o cose simili, a selezionare piano piano questi elementi per formare poi le piante di cui ci siamo cibati. A quel punto era possibile coltivarle, dopo poco è stato possibile anche allevare le bestie. Probabilmente i primi tentativi erano di catturare queste bestie vive attraverso, per esempio, delle bolas di pietra che poi le costringessero a rimanere ferme lì, dunque legate, come con la palla al piede i carcerati, e poi piano piano si è evoluta la maniera di farli accoppiare, eccetera. Non per tutte le piante, non per tutti gli uomini e non per tutte le specie di animali è possibile fare questo. Ci vogliono particolari caratteristiche. E guarda caso erano tutte quante caratteristiche presenti nella mezzaluna fertile, fondamentalmente, e non in altre parti del mondo. Nelle Americhe c'è solo una specie di animale domesticabile, in Europa ce ne erano 50. Dunque è un po' il caso che ci ha permesso di fare questa selezione e di partire noi. Diciamo, siamo partiti per primi, perché ci possiamo sempre domandare per quale ragione siamo stati noi occidentali ad andare a conquistare Montezuma e non Montezuma a conquistare Carlo V, se lo dovremmo forse domandare, com'è mai andata così? Per quale ragione? Per un caso geografico, geologico, che dipendeva dalle condizioni in cui vivevamo. Ma detto questo, che è un po' una digressione, le cose cambiano in quel momento lì, perché quando hai un'agricoltura, modifichi coscientemente il territorio e formi soprattutto una classe di persone che non deve lavorare per forza per procurarsi il cibo. Anzi, la maggior parte del tempo non fa nulla. Dunque una classe di militari, che difende quella roba lì, una classe di sacerdoti, che ti fa pensare che tutto dipenda da un dio e dunque è bene non avere casini in giro, e una classe di politici. Nascono lì queste cose qui. Dunque è lì che hai questa differenziazione. E da quel momento in poi, ogni volta che un popolo agricoltore incontra un popolo cacciatore, al contrario di quello che ci dice il senso comune, il popolo agricoltore vince. Sempre. Perché c'ha i militari, c'ha gente che fa questo per il mestiere. Perché c'ha una cadena di comando sicura, un'organizzazione sociale definita. E poi c'ha le case. E c'è il cibo assicurato sempre, anzi è la sovrabbondanza di cibo che ti permette questo. Dunque è un fenomeno che all'inizio è interessante per i momenti, ci fa sviluppare molto in fretta. Ma che cosa porta questo però? è il primo volontario sconvolgimento degli ecosistemi. Lo facciamo noi. Inducendo appunto quelle trasformazioni di cui dicevo prima, che però erano abbastanza lenti al tempo, e poi invece, andando nel dettaglio, cambiando completamente gli ecosistemi. Pensiamoci un attimo all'agricoltura anche oggi. C'è un termine che certamente esiste solo per gli uomini, che riguarda l'agricoltura. Ed è erbacce. Ma che vuol dire erbacce? Leva quelle erbacce. Non è che si capisce bene che cosa significhi e perché ci sia. Non ci sono erbacce in natura. Quando ero piccolo i campi di grano erano pieni di papaveri, oggi non ci sono più dentro il campo di grano. Perché sono fastidiosi nella raccolta automatizzata. Ma l'erbacce, i papaveri, questa roba qui, non è una selezione che noi abbiamo apportato, che non tiene conto di quella che è invece la ricchezza della vita nel campo anche agricolo. E questo fa la differenza, ha fatto subito la differenza. Lo sconvolgimento degli ecosistemi. L'uomo è l'unico animale che squaderna gli altri ecosistemi. Li manda a gamba all'aria. Gli altri animali fanno incursioni in ecosistemi diversi da quello proprio, ma l'uomo è l'unico che ne esce e se ne rende indipendente. Qui nasce tutto. Nasce tutto qui. Quindi è talmente lontano che possiamo non prenderci una colpa. E no. No. Perché quando gli uomini erano pochi su questo pianeta, ancora la cosa si poteva governare. Quando sono diventati tanti, oggi siamo 7 miliardi, questo è diventato molto più complicato. Allora possiamo andarci a ricercare quelle date che avevamo detto prima, nel 1850, gli anni 70. Ricorderei pure il 1859, l'anno in cui venne scavato il primo pozzo di petrolio. Funzionava così. Ci si levava il cappello, lo si buttava per terra, dove cadeva il cappello lì c'era il petrolio. Ed era così perché quello che ha fatto per la prima volta questa cosa che si chiamava Drake, il colonnello Drake, lo fece in un posto dove c'era un giacimento a profondità molto bassa, dunque. Gli diceva bene, comunque buttava. Poi è morto povero in realtà, non ha avuto modo di sfruttare bene. Il petrolio era conosciuto da tempo, ma non per l'uso di illuminazione, il primo per cui si è utilizzato, e poi dopo come combustibile. Ma insomma, quello che vediamo da quel punto in poi, dall'agricoltura in poi, è che l'uomo si pone in qualche misura fuori dalla storia naturale. Fa un'altra cosa. Poi siamo il prodotto della storia naturale, dunque non è che ce ne possiamo andare da un'altra parte, però si muove in una maniera in cui non si muove nessun altro animale. Qual è la differenza principale fra l'uomo e gli altri viventi, non umani? Ce lo possiamo domandare a buon diritto, perché non è mica la differenza facile, come sembra. Qual è la differenza? Io se faccio questa domanda, faccio tante conferenze in giro per l'Italia, ma insomma, se lo faccio a dei ragazzi, a dei bambini, mi danno molto spesso delle risposte che sono simili a quelle che darebbero gli adulti, e non c'è nessun motivo di... Succede una cosa strana? Dove sta Gianni? Si è andato padre Gianni, vedi? È lui. Perché io stasera dormo qui. Dice che alle otto devo coricarmi, e alle quattro mi costringono a fare le orazioni. Quello che non mi va bene è i ceci sotto le ginocchia, il resto lo farei volentieri. Comunque, dicevo, qual è la differenza principale? Se lo dico a questi ragazzi, ma spesso pure gli adulti lo pensano, dice no, ma noi siamo intelligenti. Allora io dico, va bene, ma da che dipende questa intelligenza? Dice perché abbiamo un cervello grosso. E io gli dico, guarda che se fosse davvero così, anche in proporzione al corpo si intende, e insomma è come dire che tu consideri un portafoglio importante perché è grande e non per i soldi che ci sono dentro. E poi Neandertal, che è un nostro cugino che si è estinto, aveva una bella scatola cranica di 1450 cm3, tutti riempiti di cervello, dunque più grosso del nostro, ma si è estinto. Dunque, poi che vuol dire intelligenza? C'è da domandarselo questo. Io adesso sto un po' più su questi temi qua, faccio una piccola digressione, cioè su questi più generali, perché mi piacerebbe lasciare le vostre domande alla fine quello che riguarda il mondo di oggi, però mi interessa dire come ci siamo arrivati. Si potrebbe fare anche in un'altra maniera, parlare di questo di più, cioè del clima, delle risorse, di questo ne parleremo. Preferisco questo aspetto, perché secondo me è meno toccato. E ritorniamo al discorso, come misuri l'intelligenza per dire che noi siamo superiori, perché poi alla fine questo è quello che facciamo. Dunque, l'anno scorso sono stato in vacanza, una vacanza di lavoro, in uno stato che si chiama Laos. In questo posto, tra le tante, che è uno stato che basa quasi tutto su un turismo sostenibile, veramente un posto strepitoso, dove ancora si scoprono all'anno 30 o 40 specie nuove, pure di mammiferi, oltre che di insetti, rettili, eccetera. Però perché ricordo questa cosa? Perché ho imparato a portare l'elefante, come una macchina. era una cosa che volevo fare da tempo, dunque ho dedicato alcuni giorni a portare l'elefante. Mi sono preoccupato che fosse una cosa da fare senza metodi violenti. E non lo erano di fatto. Erano elefanti che avevano lavorato nella loro vita, e lì magari li hanno costretti, ma che invece poi, nella foresta, vengono portati senza tutto, quel basto, quella sella enorme, quel catafalco di legno che pesa. Ma sei tu e lui. ti portano su questo elefante, ti viene dietro anche la guida, ti dicono come mettere, a un certo punto quello scende, e ti lascia solo con l'elefante. Tu gli stai sul collo, con, diciamo, le ginocchia, dietro le grandi orecchie, e solo con una piccola pressione nelle ginocchia, e con alcune parole particolari, lo guidi. non vi dico quando fa il bagno, perché quello va in acqua, sotto pure, con te sopra, nel Mekong, è una cosa bellissima. Ma detto questo, perché dico dell'elefante? Perché l'elefante ricorda un po' gli schiavi di ogni tempo tra gli uomini, così grosso, quello ti piglia con la proboscete di stritola, non lo fa. Così come non si ribellavano i neri e la schiavitù, se avete visto Django, o film di questo tipo ultimamente, insomma, o Lincoln. Ecco, ma, ancora di più, sei portato a pensare che dunque non è così intelligente, come abbiamo fatto con gli altri uomini, con i neri, e con quanti altri. Invece l'elefante è un animale di un'intelligenza straordinaria. Avrete visto qualche tempo fa, proprio in prima pagina sul Corriere della Sera, la fotografia di un elefantino piccolo che piangeva la mamma morta. Quello è quello che accade. Gli elefanti piangono le morti, festeggiano pure le nascite, con una specie di rito di festa, riconoscono lo scheletro morto di un elefante, pure se è uno scheletro. Lo accarezzano, fanno tutto un rituale quando trovano queste cose. E sono talmente tanto dotati di intelligenza che le loro strategie sociali sono, insomma, per dare un esempio, nelle arene dei Romani gli elefanti erano gli ultimi a morire, dopo le tigri, dopo i leoni, dopo gli orani. Dopo tutto doveva scendere la guardia imperiale per recitergli i tendeli e ammazzarli, se no non ci si riusciva. Perché erano talmente tanto forti in difesa che non ti permettevano di dargli fastidio, poi con quella pelle, a voglia di tirargli frecci. Dunque, l'elefante è da... e poi c'è un altro fatto molto curioso, questo si tramanda negli studi naturalistici, c'era un elefante che era costretto, proprio nel sud-est asiatico, a piantare i pari della linea telegrafica. C'erano i buchi fatti e lui pigliava questi pari e li metteva dentro, questo facevano. A un certo punto non lo voleva piantare dentro un buco e il suo conduttore era diventato matto, diceva no, c'hanno un uncino, quelli che li guidano in maniera... insomma, lo picchiava, gli faceva qualsiasi cosa e non c'era verso. Allora quello scende, va a vedere che succede, dentro il buco c'era un cane che dormiva. Levato il cane, quello ha piantato il tronco. Io conosco molti uomini che con questo scrupolo non se lo sarebbero fatto. Dunque, quando si misura l'intelligenza in termini di sensibilità, di altri conti, direi che è meglio lasciar perdere. Allora, qual è la differenza tra l'uomo e gli altri animali? Dice, questa differenza però sta nel fatto che noi abbiamo delle mani che sono degli strumenti, il pollice opponibile e tutto il resto. Ma, e siamo meravigliati di queste mani, no? Per quello che ci possiamo fare. Ma non conosciamo bene gli elefanti, ci ritorno. L'elefante ha una proboscete che non solo fa le stesse cose che fa una mano, ma in più ci respira, ci beve e ci mangia. Ed è molto più forte di una mano. Sono diecimila muscoli, un milione di nervi e un pezzo di cervello a tutti gli effetti. Altro che mano. E poi sai, gli strumenti li usano molti animali, ormai l'abbiamo conosciuto. C'è un bellissimo filmato che trovate pure in rete di un gorilla che deve attraversare un corso d'acqua e col bastone saggia. quindi questa storia che noi siamo più intelligenti, usiamo gli strumenti, le mani, insomma, si funziona, ma non è quello che fa la differenza. Che cos'è che fa la differenza fra uomini e altri animali viventi? C'è qualche cosa che gli altri viventi proprio non praticano, non c'è. Mentre noi invece sì. Fa proprio la differenza vera. Oh ma, guarda che non riguarda soltanto gli animali superiori, perché chiamiamo animali superiori non si sa perché l'elefante, perché è mammifero, vabbè. Ma esiste una falena, io sono appassionato di falene, che si chiama Testa di Morto. La conoscete perché in un film famoso Il Silenzio degli Innocenti il serial killer e l'assassino la infila nella gola delle vittime. Allora, questa falena, che è grossa così, entra negli alveari delle api, prende il miele e esce. Voi sapete che negli alveari delle api non entra nessuno. Lei invece c'entra. Perché scade tutta una serie di ferormoni che mettono le api in una condizione tale che la pensano una di loro. Ma è grossa a dieci volte un'ape. Ce n'è un'altra, sempre a proposito di strategie e intelligenze, che è molto ambita dai pipistrelli, se la mangiano volentieri. Però lei ha imparato che esiste una specie simile che i pipistrelli non trovano commestibile. E dunque rimanda al pipistrello che la individua col sonar il segnale di quell'altra specie. Gli dice guarda io non sono buona da mangiare, non te la prendere con me. E lui non la mangia. E poi il più bello di tutti secondo me è il polpo Paul. Il polpo Paul, quello dei mondiali, di calcio, si dice che prevedesse la vittoria della Spagna, eccetera. In realtà il polpo è attratto dal giallo e dal rosso, quindi quando c'è Germania, Spagna, l'ha presa per quella ragione lì. Ma a parte questo, è un polpo elbano quello era. Lo so perché stava nell'acquario dell'Elba quando io ero presidente di quel parco. Ma lui o altro polpo in generale, il polpo è un animale intelligentissimo. In un esperimento che si fece tanto tempo fa, si mise un polpo dentro un acquario cubico, su un tavolo. E questo acquario aveva dei buchi e poi dopo un coperchio sopra. E dentro c'era sto polpo che veniva messo dentro e che doveva capire come doveva mangiare. Però poteva mangiare soltanto prendendo una pallina delle due che c'erano, una rossa e una bianca e mettendola in un piattino di rame che stava lì. Doveva metterci quella rossa. Sto polpo all'inizio non mangia e deperisce, poi si muove, insomma a un certo punto in qualche modo mette la pallina rossa dentro il piattino e gli arriva il gamberetto. Da quel momento non sbaglia più un colpo. Accanto si mette in questo esperimento un altro acquario cubico la stessa maniera con i buchi, il coperchio, eccetera, e lo stesso, un polpo con due palline e il piattino. Quell'altro gli basta solo guardarlo il primo per fare la stessa cosa subito e tutte e due svitano il coperchio e se ne vanno durante la notte. Ora, questi sono gli animali anche in me, questo non è nemmeno vertebrato il polpo, che schifo è. eppure noi ci consideriamo più intelligenti, più bravi, non è quella la differenza. Sono animali che fanno cose straordinarie. Per non parlare di come comunicano le balene. Hanno analizzato le armoniche delle balene e sulla Terra nessun uomo è in grado di ricostruire le armoniche delle balene a meno che non si chiami Ironan Sebastian Bach, solo lui. Quindi, insomma, non possiamo accampare queste ragioni qui. Qual è la vera differenza fra l'uomo e gli altri animali? C'è una sola. Una sola. Che in natura, in nessun modo, in nessuna parte del mondo, tra nessuna specie, esiste l'accumulo. Non lo fa nessun vivente al mondo. Non c'è il guadagno, non c'è il capitale, non c'è ricchezza in questo senso. Non c'è nemmeno povertà, se la vogliamo vedere dal punto di vista opposto. ma non esiste. Insomma, si è mai visto un leone che cattura sei gazzelle, una la vende al mercato Salavana, l'altra la dà alla zia. No, una, quella, che serve. E basta. Questo noi uomini non lo facciamo. Per quanto tu abbia tanto, vuoi sempre di più. Questa è una molla significativa, se vogliamo, ma è anche un limite. Quando siamo 7 miliardi in uno stesso mondo è un limite. Grosso. È vero che c'è lo scogliato, lo mette da parte per l'inverno, le formiche pure per l'inverno, ma è una stagione. L'orso si ingrassa, poi va in letar, ma insomma, è sopravvivenza. Noi no, noi facciamo qualcosa di diverso. Noi mettiamo via per avere roba, non solo per vivere. è la strategia del cowboy. Cosa fa il cowboy? Si muove con una mucca al seguito, cowboy, o più, ha il suo lazzo, il fucile, gli strumenti, si ferma in un posto, se è una miniera la depreda, se è un fiume gli leva tutto l'oro che c'è, se c'è qualcosa da raccogliere, raccoglie, se c'è qualche animale da cui sparare, spara, la mucca la continua a far riprodurre, magari ne ammazza il vitello, tutto quello che gli avanza lo butta e si sposta. Questo è il cowboy. Molti ancora si muovono in questo modo qui. Ma questa strategia va bene quando sei in pochi, non ci sono altri cowboy all'orizzonte, il mondo è illimitato e soprattutto se non ci sono indiani. Altrimenti non può funzionare. Eppure noi è quella strategia che continuiamo a tirare avanti oggi, è la strategia dell'accumulo. non è vero poi che la differenza fra gli animali non umani e l'uomo sia sempre stata questa. Perché per esempio, proprio in questo esempio degli indiani che facevo prima, gli indiani erano capaci di comportarsi come il leone nella savana, uccidevano un bisonte, quello che serviva, lo usavano tutto, dallo sterco alle corna e poi quando serviva ne pegavano un altro. Arriva a Buffalo Bile in un giorno ne fa fuori 360. È lì la differenza. Il punto che andiamo cercando è da quelle parti lì. Questo cambia le cose. Questo cambia le cose. E cambia il mondo, cambia la faccia del mondo. E siccome noi siamo quello che siamo stati, questo è quello che ci troviamo. Non possiamo essere il prodotto di qualche altra cosa. Ma guarda che l'avevano detto bene, anche a me piace andare a riguardare queste cose in mezzo ai romanzi. Avrete tutti quanti letto, immagino, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe è un fantastico romanzo del capitalismo. Ti dice veramente come stanno le cose. Quanti secoli c'ha? Due e mezzo, mi sa. Quando Daniel Diffo scrive Robinson Crusoe, scrive L'epopea lo spirito del capitalismo. Che fa Robinson? Prima della rivoluzione industriale. Robinson arriva in un'isola deserta, che è deserta per definizione. non c'è nessuno. Prima si fa una capanna, però poi, perché è naufraga, poi si va a cercare una grotta. Quale grotta prende? La più grande che c'è. Che ci fa che sei da solo? La più grossa. Ci fa davanti una serie di munizioni, mette una serie di muri di terra come se fosse un labirinto davanti all'entrata della grotta. Sull'ultimo muro cala una scala a pioli che poi ritira durante la notte. Per difendersi da che? Che non c'è nessuno. c'è l'archibugio, spara tutto quello che vede volare. Un giorno ammazza sei prede, poi ci pensano altri ma capisce che se va avanti così, siccome non c'è il sale, non c'è il frigorifero, non è che camperà molto a lungo su quell'isola se fa solo quello. Quindi su quello si modera un po'. Però trova un barilotto di orzo e ne coltiva sei acri. Che cazzo! Sempre solo è. Infine, l'unico altro uomo che trova venerdì lo schiavizza. Questo siamo noi. Noi siamo questo. Siamo questa roba qua. E quindi, in qualche misura, il mondo così diseguale che vediamo oggi e così sull'orlo di una crisi di risorse, sull'orlo di un crunch ecologico senza precedenti, è il prodotto della roba nostra. L'abbiamo voluto noi. Di più, se c'è una parte del mondo che sta bene e siamo noi, è solo perché un'altra parte sta male. Non è che è un caso. Cioè, non è che domani potremo portare tutti allo sviluppo nostro. Questo non è fisicamente possibile. Non è fisicamente possibile. Perché la Terra è un pianeta limitato, le risorse sono finite, ci sono quelle e basta. Non le possiamo portare avanti oltre. Quindi, la vera differenza che c'è fra l'uomo, per questo dico che si pone fuori dalla storia naturale, perché è l'unico che manda gambe alle pate gli altri ecosistemi e che accumula. L'unico. E dunque, tutto il resto del pianeta è in stato di stress. Dei viventi, la Terra fa il mestiere suo, se ne frega di queste cose. Ma i viventi sì. E questa è la situazione grave in cui ci troviamo oggi nel suo quadro generale. Abbiamo cercato di risolverla. Come abbiamo provato a fare? con lo sviluppo sostenibile. Se fossi Paolo Villaggio, mi verrebbe da dire che lo sviluppo sostenibile è una boiata pazzesca. Io sono un ecologista convinto, scientifico pure, perché le studio queste cose. Ma su una Terra di 7 miliardi di abitanti, fatta di 510 milioni di chilometri quadrati di roba e basta, perché quella è la misura della Terra, nessuno sviluppo è sostenibile. Perché noi siamo troppi. Però abbiamo pensato che si poteva fare attraverso la via tecnologica. Cioè, noi risolveremo questi problemi con la tecnologia. Questa, se è possibile, è una stupidaggine ancora peggiore. A parte che io, fino adesso, conosco solo una tecnologia che serve a rimediare i problemi fatti da un'altra tecnologia. Io questo vedo. È difficile che vedo qualcosa di diverso. Ma, la sintesi di questa cosa qui sta in una cosa che ho vissuto personalmente e che chiamo esempio del cesso giapponese. Qualcuno di voi sarà stato in Giappone o avrà visto un cesso giapponese. Io lo racconto io. Andai lì per un terremoto che fece 6.000 morti. Facevo solo il geologo allora. Parliamo del 1995 a Kobe. I giornalisti e i geologi vengono messi da una parte della città dove ci sono degli alberghi che possono riceverli. Ti danno tutte le cose, ti arrangio un po', lì c'erano problemi con le foto elettriche, eccetera. Entri in camera, apri il bagno e ti si apre questa meraviglia. Poi sono tornato in Giappone altre volte, c'è sempre. È una specie di vasca un po' più grande delle nostre tazze, diciamo, più grossa, un po' ovale, che ha un telecomando agganciato alla tazza e lì c'è una serie di pulsanti in cui ti puoi sbizzarrire. Per esempio, puoi far scorrere l'acqua in senso orario o anti-orario. La puoi avere azzurra o rossa? Rosa. La puoi avere profumata, qui qualche valore ce lo puoi avere. C'è la musica, se puoi. Riscalda la tazza, se fa freddo. E infine, alla fine dell'operazione, viene fuori una specie di tubicino con una pallina, tutta buccherellata, che ti aiuta a pulirti. Tutto dentro questa cosa qui. E' una cosa meravigliosa, ho detto io. Provo a usarlo e manca la corrente. Tutti in strada nelle latrine, come tutti gli altri, come è giusto che sia. Ma che motivo c'è di modificare un meccanismo perfetto come quello galleggiante, catenella, sciacquone? Nessuno. Nessuno. E' una tecnologia che non ci serve. Che ci rende le cose più difficili. Io la chiamo nel libro tecnologia barocca, fine a se stessa. Non serve a niente. Non mi serve a niente. Non mi migliora la vita. Me la complica. Ho un telefono cellulare che ha un libretto di istruzioni che è grosso come la Bibbia. Ci posso fare qualsiasi cosa con quel telefono. Sto meglio un po'. Sì, è vero una merca che ti raggiunge. Sì, ma fondamentalmente la via tecnologica dello sviluppo sostenibile non esiste. Pensate che la tecnologia più importante del mondo, quella che ha più soldi, seconda solo a quella militare, è la tecnologia petrolifera. Fanno talmente tanti profitti. Quando la piattaforma Deepwater Horizons nel Golfo del Messico due anni fa fece il danno che fece, producendo un buco sostanzialmente sulla captazione del petrolio, ci misero otto mesi per tapparlo. Che cazzo di tecnologia è? Non siete capaci di tappare un tubo di acciaio? No, non mi serve questa strada. La strada della tecnologia barocca non la sopporto. Perché è barocca? Perché è slegata dalla sua radice scientifica. La tecnologia, come dicevano i greci, ha ragione di essere in quanto tecnè perché è legata a una sofia, a una scienza. Da sola non ci serve a niente. Oggi invece è costruzione personale. Fammi vedere se riesco a fare l'ultraleggero più leggero del mondo. E dopo? Ci sarebbe una terza via. Giusto per non essere... È quella che però ci dice delle cose diverse, cose che a noi non ci va di sentirci dire. che noi siamo tanto più ricchi degli altri e dunque dobbiamo ridistribuire questa ricchezza perché gli uomini tanto tutti i fratelli sono. Per quale ragione il mio cugino di Shanghai deve continuare ad andare in bicicletta e con lui altre 19 persone perché io abbia un'automobile? Non si capisce. Dirò di più. Solo se 20 cinesi continuano ad andare in bicicletta noi ci possiamo permettere un'autovettura. Se no, non lo potremmo fare. Pensa tu che se tutti i cinesi se tutti i cinesi volessero mangiare il pesce come i giapponesi vabbè i giapponesi ne mangiano parecchio ma insomma se tutti i cinesi volessero mangiare il pesce come i giapponesi e non si vede perché no servirebbero 100 milioni di tonnellate di pescato all'anno ma in tutto il mondo in un anno se ne pescano 110 li dovremmo dare tutti a loro. Se tutti i cinesi volessero andare in macchina e lo stavamo dicendo perché no ci vorrebbero 65 milioni di barili di petrolio al giorno solo per loro ogni giorno sulla terra se ne estraggono 85 milioni vuol dire che tutto il petrolio dovrebbe in pratica andare a loro. Dunque noi possiamo vivere così perché questi altri vivono in quella maniera lì se no non sarebbe possibile. E un mondo molto più ricco di oggi di ieri significa semplicemente un mondo molto più ricco per noi dove campiamo fino a 75 80 anni ma in Burchina Faso sempre a 40 anni si muore come nel medioevo da noi. Quindi queste questioni che sono le questioni che affronto nel libro poi lascerò un po' di tempo per le domande visto che devo raccontare solo altre due cosette prima di sentire se vi va di interagire stiamo sulla parte più moderna io ho fatto un po' di storia adesso insomma per vedere qual è la radice di questi comportamenti. Ecco se voglio guardare un po' anche i perché di questa cosa come mai l'uomo si comporta in questa maniera qui? Beh il profitto l'accaparrarsi del capitale perché secondo me non capisce bene come le risorse si esauriscono se tu avessi la percezione del fatto che le risorse si esauriscono in una maniera esponenziale cioè molto rapida con una progressione per intenderci chissà con una progressione geometrica e non matematica ecco se ci avessi questa percezione qui tu staresti più attento e invece non ce l'hai questa percezione perché le risorse si esauriscono con un tempo di raddoppio cioè domani oggi ne finisci 50 domani ne finite 100 non 51 noi non riusciamo a ragionare in questi termini di raddoppio diciamo in senso inverso ce lo rende bene una favoletta che si racconta da tanto tempo magari la conoscete per chi non la conosce lascia la sorpresa a chi per chi la conosce lascia la sorpresa a chi non la conosce è una favoletta che ci fa bene capire come le risorse si esauriscono in questa maniera però va letta al contrario adesso vi dico come è una favola persiana di origine forse indiana e questa favola ci dice che c'è un re che nella capitale della Persia si vuole far costruire il miglior oggetto di artigianato dal suo migliore artigiano e gli dice fammi l'oggetto più bello che puoi una scacchiera lui gli dice io te la faccio però ti costerà troppo e questi siamo noi uomini di fronte alle risorse che mi importa non finiranno mai posso permettermi di pagare qualsiasi prezzo e infatti il re gli dice guarda che io pago qualsiasi prezzo io aspetto quello che mi pare tanto le risorse ce l'ho stessa cosa e l'artigiano lo mette sul chi vive gli dice no guarda non lo puoi pagare il prezzo che ti chiedo io il re sempre più piccato gli dice no adesso fammela e tira fuori già le monete d'oro lui gli dice no guarda voglio un chicco di riso per ogni casa che costruisco però ogni volta me lo raddoppi un chicco sulla prima casa due sulla seconda quattro otto sedici trentadue l'artigiano l'artigiano comincia arrivato alla trentunesima casa sul 64 il re comincia a pensare che non gli bastano tutti i chicchi di riso che c'è nella dispensa perché devi contare il raddoppio e in più ci devi mettere tutti quelli che hai lasciato per strada e radunarli lì alla quarantatreesima casa il re c'ha dei dubbi che basti il riso della città alla cinquantottesima casa non gli basta più il riso di tutta la provincia alla sessantaduesima casa non gli basta più il riso di tutto il regno di tutto il raccolto è una cifra con diversi zeri qualche venticinquina di zeri non ce l'ha non lo può pagare quel prezzo lui risolve tagliando la testa all'artigiano e tenendosi la scacchiera ma noi questo non lo possiamo fare le risorse si esauriscono così come si esauriva il chicco di riso per il re alla stessa maniera ma quel ritmo di raddoppio noi non lo conosciamo non fa parte dei nostri meccanismi mentali mentre sta nei meccanismi mentali di tutti gli altri viventi che infatti lo applicano naturalmente la risorsa non va finita l'uomo è l'unico predatore che ha 100% di successo nessun ecosistema resiste se un predatore c'è al 100% di successo considerate che gli animali che hanno maggiore successo di predazione che sono in genere i grandi felini e il licaone ci hanno scarso il 30% non campano gli ecosistemi in cui uno si piglia tutto non campano se non altro in maniera armonica e questa era la penultima favoretta ce n'è un'altra breve breve poi passiamo alle domande che ci induce a domandarci se c'è qualche cosa di altro oltre al profitto e al capitale che si accumula io direi che c'è un'altra cosa che fa la differenza con gli animali non perché gli altri animali non lo pratichino perché lo praticano in qualche misura però con modalità diverse allora vi chiedo se ce l'avete davanti a voi di tirare fuori un telefonino con la tastiera qualcuno ce l'avrà no? no? un telefonino con la tastiera e se per favore mi leggete le prime 5 lettere in alto a sinistra ma non faccio esercizi di magia e nemmeno spirituali quali sono le prime 5 lettere? in tutti i telefonini sono Q W E R T E Y sempre quello tant'è vero che quelle tastiere si chiamano QWERTY ma in tutto il mondo è incredibile se ci pensate come? perché? è veramente anche in italiano nelle vecchie tastiere italiane per esempio della lettera 32 dell'Olivetti c'era la Z al posto della W perché la W in Italia non si usa ci mettevano la Z ma come è possibile che in tutto il mondo non solo tutti i telefonini ma tutti i computer tutte le tastiere sono QWERTY ma ci avete mai pensato? è un monopolio incredibile QWERTY sempre quelle perché sono fatte così le tastiere? ritorniamo alle macchine da scrivere le prime macchine da scrivere vengono inventate intorno al 1840 perché le fanno così? perché la tastiera è fatta così? poi è cambiato tanto ma insomma perché la tastiera è fatta così? erano macchine strane quelle c'erano questa particolarità c'erano i tasti intanto che non erano elettronici dunque dovevi pigiare erano meccanici ma a parte questo poi il nastro in prime ci aveva alla fine del martelletto che veniva mosso dal tasto c'erano le lettere in genere due maiuscole e minuscole andavano a battere su un nastro di seta imbevuto nell'inchiostro che stava addossato a un rullo tra il rullo e il nastro mettevi la carta nelle prime macchine la carta non veniva messa da sotto in sopra ma da sopra a sotto dunque ti scompariva quello che scrivevi e andava a finire sotto per queste due ragioni la tastiera è fatta in quel modo ma perché però? qual è la risposta che ci diamo più facilmente? beh l'hanno fatta così perché non in ordine alfabetico a b c d f g potrebbe essere intanto la devi imparare non è che ti viene naturale per le mani qualsiasi schema l'avresti dovuto imparare perché è fatta così? uno potrebbe dire per fare più svelti perché in quel modo vado più veloce e invece se vedi le lettere della tastiera scoprirai che le lettere che sono battute con più frequenza in inglese formano una parola che si chiama diatensor con l'h c'è la d la i la t la h la e la n la s la o e la r sono le lettere battute con più frequenza ma in quella tastiera lì sono quelle che batti col mignolo e con l'anulare della sinistra e della destra ci eri dita più deboli quella tastiera era fatta per farti andare lento non per farti andare svelto perché prima di tutto c'erano i martelletti che si incastravano se li battevi troppo velocemente e in più la carta ti sfuggiva non riuscivi a vedere se hai fatto un errore dunque devi andare calmo fatta al contrario di quello che il senso comune ci dice no? la faccio per farla svelta no era fatta per andare piano ma poi però le macchine da scrivere cambiano a un certo punto è arrivata la testina rotante il correttore addirittura nel computer il correttore è automatico non ti puoi sbagliare e più svelto vai meglio è ma la testina è rimasta quella perché? qui c'è la differenza con le altre cose degli animali perché quando coloro che avevano inventato le prime macchine da scrivere QRT trovarono dei concorrenti trovarono delle persone che avevano fatto delle tastiere in cui una volta che la macchina era cambiata andavi più svelto con l'altra tastiera e sono esistono se andate a ritrovare delle altre tastiere ce ne sono di due o tre tipi con le lettere messe diversamente e quindi le avevano trovate e stavano competendo contro di loro a quel tempo in cui fine del 1800 si andava a una gara di appalto per le macchine da scrivere per gli uffici di tutti gli Stati Uniti d'America siccome sono americani e purtroppo c'è niente da fare come risolsero la questione fra i due contendenti quello che già era affermato e quell'altro che stava venendo fuori ma ci aveva la risolzero all'italiana non nelle modalità ma in quello che c'è dietro nelle modalità la risolzero all'americana prendiamo dissero quelli della QWERTY due campioni di scrittura il nostro e il vostro diamogli un dettato simile vediamo chi lo batte più veloce chi lo batte più veloce si aggiudica la gara questa è la cosa americana dietro c'è la cosa italiana la fanno questa cosa ma e qui entriamo in ballo noi levantini corrompendo e facendo quelli della QWERTY fecero in modo che il suo il battitore proprio della macchina di scrittura battesse con dieci dita l'altro batteva con due e si era mandato a memoria la tastiera cosa che invece non avrebbe dovuto fare quindi quello sapeva a memoria la tastiera e batteva con dieci dita l'altro no quindi pur avendo una macchina più veloce potenzialmente risultò inevitabilmente ritardatario e vinsero l'appalto che poi fu opportunamente unto da varie tangenti e cose di questo genere qua dunque per mantenere una posizione di monopolio che avrebbero perduto perché avrebbero dovuto rifare tutti i loro macchinari per costruire macchine diverse si mostrano in una maniera che non è prevista dal mondo naturale perché nel mondo naturale l'inganno c'è c'è anche la strategia figuriamoci tutte cose che ci stanno ma rimangono nel fatto che ci sia poi una sopravvivenza per tutti qui no sopravvive sempre e soltanto in un darwinismo malinteso chi è più forte basta e con l'inganno si fa avanti in natura questo esiste fino a un certo punto cioè i limiti di tolleranza sono chiari in natura nei viventi non umani mentre nei viventi umani no dunque qualche misura l'evoluzione culturale perché la tastiera da scrivere è un'evoluzione culturale ribatte fino a un certo punto l'evoluzione biologica ci siamo quasi tranne che a un certo punto si discosta per la stessa ragione che dicevamo prima è il denaro che la muove e noi non conosciamo altra religione che quella mentre in natura questo non si declina mai e questa è la differenza comincerei io guarda subito con una che ci dica appunto di queste accelerazioni rispetto a quello che è la sommatoria dei problemi che è appunto la condizione di surriscaldamento del pianeta e che non ci dà molto tempo non ci dà molto tempo perché a questo è collegata come dire tutta la filiera fossile e cioè tutto i combustibili che abbiamo usato e che ormai non sono soltanto strumento energetico ma sono anche cibo sono anche produzione appunto di alimentare quindi come dire è un problema molto serio sì ecco il problema dell'energia qui non nel libro è toccato ampiamente io invece l'energia e del clima in questo caso invece qui volutamente adesso l'avevo lasciato fuori appunto aspettando una domanda di questo genere ma quando parlo di queste cose perché sono estremamente connesse non so mai bene da dove partire dai fatti di cui discutevamo prima per esempio la fusione del ghiacciaio del mandrone ecco ne parlavamo proprio qualche minuto fa ma partirei dall'energia invece allora quanto ci costa a noi l'energia dentro casa la domanda che faccio è questa quanto spendiamo di bolletta la bolletta in generale è mensile non lo so può variare il consumo elettrico dentro una casa non so diciamo dai 30 ai 100 euro ci siamo quasi tutti ci ritroviamo ecco quant'è sì ecco dicevo può essere che è una cifra molto alta perché a noi ci secca quando aumentano la bolletta ma è davvero una cifra alta pensiamoci un attimo io devo provare a vedere qual è il valore dell'energia e non solo il prezzo il prezzo è questo ma il valore io ci ho provato a tradurre diciamo in grosso modo per una famiglia italiana media per avere l'energia che c'è dentro casa quei 3 kilowatt in genere e usare tutti gli elettromaestrici gli strumenti eccetera quello che c'è dentro casa ci vorrebbero dalle 30 alle 50 persone che lavorassero per te in lavoro muscolare equivalente in quella energia 24 ore su 24 o sono schiavi o li devi pagare e vuoi dire che non le paghi meno di 50 euro al mese tutti non costa tanto l'energia costa molto poco rispetto a quello che sarebbe cioè se tu la traduci l'energia che utilizzi in lavoro muscolare capisci qual è il valore dell'energia quando parliamo di energia elettrica noi parliamo di un'energia sofisticatissima veramente uno degli ultimi stadi dell'energia e quindi dovremmo trattarla con quel rispetto lì invece noi la sprechiamo continuamente la utilizziamo per cose che non si dovrebbe addirittura in Italia per decenni ci abbiamo scaldato l'acqua con energia elettrica cioè significa passare da una forma di energia elevata alla più corrotta di tutte cioè al calore quindi l'energia in realtà noi la paghiamo forse pure poco rispetto a quello che dovrebbe però quello poi è il mercato eccetera ma oggi siamo di fronte a un momento in cui c'è una rivoluzione epocale da fare finisce il tempo delle centrali elettriche comincia il tempo del decentramento per forza senza diciamo inseguire chimere poi passiamo al clima noi possiamo fare una cosa ben precisa tutti noi perché un terzo dei consumi complessivi di energia in Italia ma tutti i paesi del mondo è quello domestico in quei consumi lì noi possiamo rendere priva di dispersione la nostra casa utilizzare elettrodomestici di classe superiore e supplire il resto con le energie rinnovabili tali da azzerare quel terzo di consumi azzerarli energia che ci facciamo noi dopo aver risparmiato in questo l'energia rinnovabile è insuperabile certo in un condominio di Roma è complicato ma in una villetta bifamiliare quasi la metà degli italiani vive in quelle condizioni lì è più facile e si può fare e direi che si deve fare questo lo possiamo fare subito subito ogni 25 anni ristrutturi casa farla in maniera che sia coibentata una casa passiva che non disperde ci spendi un po' di più ma poi risparmi quei soldi dotati di impianti rinnovabili ci spendi un po' di più ma poi non non sei più dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi di energie fossili e poi per un po' di tempo le acciaierie e la Fiat le faremo andare ancora con i combustibili fossili che restano soprattutto il gas direi adesso perché dobbiamo fare questo perché la traduzione delle nostre attività produttive è il surriscaldamento climatico e il surriscaldamento climatico è l'estremizzazione del clima più che farà più caldo e fa più caldo ma quello che viene fuori di più è che il clima è diventato estremo io questo inverno a ottobre fino a ottobre era il giorno di Halloween il giorno dopo dico Halloween perché stavo appunto a New York e il giorno dopo è arrivato l'uragano Sandy a Manhattan io l'ho aspettato con impazienza perché quando vedo una roba di questo genere mi eccito molto quindi sono rimasto lì fino all'ultimo hanno dovuto portavia con la polizia però c'erano tanti operatori c'erano solo operatori dell'informazione in giro gli americani non hanno lasciato né una macchina parcheggiata quando da noi se invece c'è una tempesta di quel genere la prima cosa che ti colpisce è le macchine affastellate che ti arrivano addosso perché ci abbiamo dappertutto ne hanno girato mai si sono chiusi in casa tranquilli ordinati ma nel centro di Manhattan a Times Square non c'era nemmeno un'automobile e il mare saliva come saliva l'uragano stesso mentre noi stavamo lì ad aspettarlo non erano mai arrivati lì uragani di quel tipo e poi ne è seguito un altro cioè vuol dire che stiamo assistendo a eventi a perturbazioni meteorologiche violente fuori dai loro contesti e fuori dalle loro stagioni quest'anno per la prima volta abbiamo visto un tornado in Italia quella non era una tromba d'aria quello era un tornado vero un tornado vero sì quello sull'Ilva di Taranto quello era un tornado vero cioè sono fenomeni che dipendono da un solo fatto che c'è più energia termica in giro cioè l'acqua del mare è più calda il sistema atmosferico è più caldo e questo ormai dipende da noi ci hanno raccontato io sono stato discutere con questi scettici malafede che ti vogliono dire ma no ma figurati la terra è così grande che figurati se conta quello che emettono gli uomini ma è come se tu c'hai due bicchieri per quanto questi due bicchieri possono essere grandi e riempiti al colmo se io ci metto una piuma su uno dei due e questi stanno sulla bilancia la sbilancia e basta non conta quanto è grande il sistema conta quello che ci metti tu e basta poco se lo metti tutto solo da una parte e poi ti dicono no ma la Groenlandia un tempo era verde mi fa molto piacere però dire questo significa non aver capito qual è il cambiamento climatico di oggi che è molto più globale infatti si chiama global change per questo mentre un tempo quando la Groenlandia era verde pochi altri punti avevano più caldo e quando è ritornato il gelo fino in Islanda in Islanda si è fermato al massimo in Inghilterra cioè erano fenomeni a macchia di lopardo non riguardavano tutto il pianeta come oggi e soprattutto non avvenivano in un tempo così breve è l'accelerazione che preoccupa e però ti dicono ancora sì vabbè alla fine è vero fa più caldo così qua là però siccome non siamo sicuri che dipenda dagli uomini è inutile sforzarci di fare qualche cosa sono ragionamenti è una parola un po' forte sono esternazioni prive di costrutto non so è come se tu avessi un malato grave cioè hai tuo figlio malato grave chiami i dieci migliori specialisti del mondo nove ti dicono di operarlo uno gli dice di no a chi darai retta tu? non lo so io darai retta ai nove effettivamente tutti i fisici dell'atmosfera e i geologi del mondo dicono che il riscaldamento globale è in atto il clima sarà sempre più estremo e dipende dalle nostre attività produttive e noi qui a perdere tempo poi si è scoperto perché la Exxon spende ogni anno qualcosa come 20 o 25 miliardi di dollari per alimentare un sistema di informazione che ti fa proprio questo gioco qua che ti dice vabbè ma perché ci dobbiamo preoccupare ti credo sapete quanto guadagnano su? allora il guadagno della compagnia di petrolio uno non lo può nemmeno capire perché un barile di petrolio sono 159 litri per tirarlo fuori non lo so vogliamo dire che spendi 3 dollari a barile ma già sto dicendo tanto trasformiamolo in euro 3 euro a barile in più devi dare le royalties al paese di cui tiri fuori non so in Italia sono molto basse ecco il motivo per cui si sta perforando ancora in Italia non so arrivano al 10% in altri paesi arrivano pure all'80% ma diciamo complessivamente mettiamo che lasci una cinquantina di euro 40-50 euro tra spese e royalties ma siccome il barile lo vendi a 100% tutto il resto è guadagno e ogni giorno ne tiri fuori 85 milioni è una cifra che fatemi un conto ecco perché non mollano e fanno tutta questa operazione fino a che non sarà finita l'ultima goccia di petrolio noi da questa roba non usciamo fuori in nessun modo sono stati capaci addirittura di farci discutere anni su quanto durerà ancora il petrolio ma chi se ne frega di quanto durerà ancora il petrolio non è quello che mi interessa quello che mi interessa è sapere quanto altro sopporterò il carico di inquinamento e di morti che mi provoca a bruciare petrolio quella è la domanda vera che mi importa a me di quant'altro dura hanno spostato la domanda capisci tu trovi la risposta e quelli ti cambiano la domanda ecco mi sono lasciato prendere ma insomma è un po' quello che succede e poi è pure vero che è difficile sai è difficile il punto noi lo troveremo a un certo momento quando il petrolio che hai già estratto sarà equivalente a quello che c'è ancora da estrarre quello è un punto importante perché quel tip point lì ti dà la misura del momento in cui la riserva di qualsiasi materiale sulla terra sia petrolio carbone diamanti quello che vi pare comincerà a costare troppo ed essere più difficile da estrarre questa è una legge che è stata studiata nei giacimenti petroliferi si è visto che quando sei a metà del giacimento la seconda metà è più difficile da tirare fuori c'è meno pressione e costa di più dunque questo vale anche per il giacimento globale di petrolio della terra dunque quando siamo sicuri che abbiamo bilanciato quello da prendere quello che hai preso quello è il momento in cui il petrolio comincerà a costare troppo ed è vicino in quel momento perché in quel momento lì vai a sfruttare il cosiddetto petrolio non convenzionale sapete questa questione dei scisti bituminosi le sabbie bituminose del Canada siccome quelle sabbie sono la roba più inquinante del mondo ma costano un sacco di energia per pulirle perché sto bitume ce l'ha in mezzo la sabbia dunque è come se mettessi in lavatrice tonnellate di sabbia e poi tirassi fuori il petrolio è una cosa senza senso lo fai solo quando il prezzo cresce troppo del petrolio ed è quello il momento in cui siamo quasi arrivati noi abbiamo estratto 1100 miliardi di barili fino adesso mi pare le riserve saranno 1300 non so qualcosa del genere siamo molto vicini a quel momento lì però abbiamo discusso di tutto questo quando la vera domanda è un'altra basta perché non ne posso più di morire inquinato perché non ne posso più di dover stare se aveste voi un microscopio elettronico e poteste scansionare queste pareti qui quelle della città la cucina di casa il bagno trovereste dappertutto una patina di idrocarburi ve lo dico perché l'hanno fatta questa cosa c'è dovunque su di noi dappertutto una patina sottilissima impercettibile di idrocarburi sono queste l'idrocarburi è un elemento di chimica organica in cui si lega il carbonio con l'idrogeno sostanzialmente e in cui questi legami formano delle molecole particolari molto resistenti e micidialmente dannose etilene metano stesso se vogliamo benzene sono tutta roba che non fa bene e noi ce l'abbiamo sparsa dappertutto anche nei posti che ti sembrano immuni e lì però a domandarci ma quanto durerà ancora basta è il momento è finito lì e ora sì subito non possiamo aspettare quello che dice sempre lo dicono un sacco di persone ma insomma l'età della pietra è finita che sono finite le pietre no l'età del petrolio si spera finisca senza che finisca il petrolio sarò più breve adesso sarò brevissimo anch'io tanto per cominciare questa presentazione però si muove non fa pezzare sto fanno niente perché scusi no no scherziamo allora a parte che io con il signor Tozzi il dottor Tozzi avrei da discutere per un paio di giorni in senso positivo nel senso non ci incontreremo probabilmente mai no perché l'entropia non è detto volevo solo dire due cose allora la prima io mi sono un po' creato però non l'ho inventata io questa cosa penso che possa essere utile come riflessione non so se il dottor Tozzi allora una persona è tanto più ricca quanto più sa fare a meno di cose io in casa ho sempre fatto un po' tutto da me e all'inizio pensavo che fosse per risparmiare ma poi mi sono accorto che continuando a fare cose per conto mio imparavo un sacco di cose e chi non si sapeva diciamo ecco qui potrebbe essere arrangiare in effetti era più povero di me nel senso che chi per andare da qui a Roma ha bisogno di un'automobile da 2500 cm3 è una persona che ha bisogno di qualcosa in più rispetto a una persona che sa fare la stessa cosa con una panda ecco questo non so se concorda sono d'accordo ecco e diciamo questo non è che sia un insegnamento è una riflessione che secondo me aiuta ad andare nel senso mi sembrava invece questa è una domanda che le voglio fare io sto combattendo io personalmente contro il fatto che a Roma Lengo ITIS 104 che è una faglia sismogenica puntuale ci vogliono infilare del metano sottoterra vogliono confinare il metano la sua esatto vogliono fare uno stoccaggio dove c'è un'assurgente sismogenica che ha creato il terremoto nel 1802 questa è la mia attività in questi ultimi due anni oltre ad essere agricoltore io penso che questa sia una cosa molto pericolosa però vorrei domandare un'altra cosa dottor Tozzi io sto seguendo anche la questione dello shale gas ma non la questione dello shale gas per quanto riguarda l'ambiente che c'è tutto un discorso da fare ma la questione dello shale gas dal punto di vista dell'informazione come dire lei ha parlato di un soggetto biologico che accumula c'è tutto il discorso dei bit cioè noi adesso ci troviamo con gente che sa accumulare bit mi riferisco proprio alle banche dati al data mining quindi e ti frega allora però la devo fermare perché se no mi porta fuori strada io non è che non è che sono insomma non sono competente di tutte queste cose quindi posso dare soltanto ecco posso dire che a proposito del confinamento di gas nel sottosuolo cioè è una cosa intanto sbagliata da un punto di vista concettuale perché vuol dire che l'hai data già per persa la battaglia per contenere le emissioni se decidi che non le puoi più bloccare ma che devi fare in modo di controllarle vuol dire che non sei più in grado di fermarle questo è già grave ma poi c'ha talmente tanti e tali problemi geologici che adesso io non so che tipo di serbatoio hanno individuato lì sarà un vecchio serbatoio di gas immagino un exerciamento di metallo dice non succede niente lo rimetto dentro nello stesso posto non è vero perché intanto nel tempo le condizioni cambiano ma quando tu infili poi gas a pressione perché questo devi fare per rimetterlo sotto rischi di aprire un processo di fratturazione complessiva un cracking che può portare a conseguenze sconosciute vale pure per l'anidride carbonica perché poi lì soffo che le persone insomma è una cosa piuttosto grave dunque io c'è una ragione dunque di principio perché vuol dire che hai rinunciato al combattere la battaglia per controllare le missioni è un'altra pratica che non sai dove cavolo metterli con tutti gli esperimenti che hanno fatto nel mare del nord eccetera l'ho vista dappertutto e poi quanto confini insomma no non funziona così non può funzionare così sul resto rispondo meno perché diciamo è meno quelle sono più considerazioni però una cosa nel libro io cito un saggio capo indiano delle isole Samoa che molti di voi conoscerete perché fu divulgato in un libricino che si chiamava Papalagi allora in questo libricino veramente straordinario costava mille lire a suo tempo era una cosa bellissima il cui riporto alcune frasi questo capo indiano delle isole Samoa viene in viaggio in Europa dunque non è l'europeo che va a vedere i samoani è il samoano re che va a vedere gli europei arriva e rimane stupefatto dice ma che mondo vivete voi ma è una cosa ma veramente brutta tant'è che quando torna indietro e raccoglie i suoi discorsi dice non andate per nessuna ragione in Europa mica sarete matti tanto per cominciare si sposano senza essersi mai visti nudi e questo lo colpiva poi vivono in questi alveari di cemento dove non si vede la cosa poi fanno di tutto per avere la loro stuoia lui chiama così diciamo le proprietà la loro stuoia di palma e non te la danno a te nemmeno se tu non c'è niente loro ne hanno mille sono schiavi della carta pesante così chiamano il denaro così chiama lui il denaro e dell'argento di non so che cosa pensano di essere ricchi perché possiedono roba come diceva lui e invece non sanno che la vera ricchezza è conoscere ma è una cosa da leggerlo oggi che fa mi pare che il viaggio avviene all'inizio del ventesimo secolo è veramente significativo perché ti dice come noi ci siamo visti sempre dal nostro cioè lui era il selvaggio capito andava lì dice poi si costringono in corsetti vivono con il pigiama non capiva il pigiama perché non dormono nudi è una cosa è un libro libricino veramente bello però va in quella direzione lì come a dire che si tratta soprattutto di il patrimonio è un'altra cosa che non quella della roba delle cose siamo abbastanza d'accordo per quanto le cose ci interessino non è che mi posso tirar fuori dall'essere umano siamo tutti così affascinati anche le nostre debolezze non si può tenere uno stato di rivolta integrale per più di 30-40 secondi però ogni tanto si può riflettere ecco insieme su questo in maniera anche bonaria insomma qui non è che possiamo far partire rivoluzioni ecco ci sono altri? prego sì scusate volevo fare una domanda che poi mi ha promesso che mi porta a mangiare però non è che si è capito bene non so se lo farà perché vi devo dire che oggi per arrivare da Linate abbiamo fatto delle strade bizzarre cercavamo di raggiungere e quindi chissà per arrivare alla cena la colpa è tua è mia infatti lo do va bene ci siamo messi a parlare delle lezioni ecco diceva prima che la tecnologia oggi forse non è più al servizio della scienza e mi chiedevo se oggi esistono ancora dei motivi più nobili per cui la ricerca scientifica e tecnologica appunto possa andare avanti mi riferisco per esempio appunto al mondo delle energie rinnovabili oppure anche all'ambiente chiedevo l'essere ci sono delle novità su cui puntare per il futuro raccogliamo anche altre domande così poi concludi eh però io ho il problema che me le scordo no vi prego scusa rispondo sarò più breve io un attimo allora rispondo prima scusami se faccio così perché allora dicevo sì nel campo dei pannelli isolali sta succedendo una rivoluzione straordinaria perché adesso non si fanno più col silicio si fanno con dei film sottili addirittura si faranno con molecole miste organiche di più ci saranno i pannelli che sapete il pannello ha poco rendimento non fa il 20% ma no 20 è troppo non si fa fa il 18% ecco però adesso oltre a elevare il rendimento perché i pannelli i solari spaziali fanno il 40% è già adesso però avremo dei pannelli che ci hanno di sopra la superficie che capta i raggi solari ma poi c'è anche una gamma dell'infrarosso che fa lo stesso energia tu non la vedi di notte riflessa dal terreno dunque ce l'avrai da tutte e due le parti i nuovi pannelli sono una meraviglia cioè su questo c'è veramente un grande movimento lì studiamo anche in Italia questi li conosco perché li sto vedendo fare ci hanno ancora questi qui un rendimento basso ma una volta qui è una questione soltanto di denaro di tempo uomo è chiaro che quella tecnologia può andare avanti ma se i soldi ti ti metti nella macchina in cui hai risparmiato tutto per farla leggera così eccetera invece di fargli consumare di meno lo fai perché ci devi mettere gli altoparlanti della tica di noce beh francamente è veramente incomprensibile ecco buonasera io volevo ricollegarmi alla storia della scacchiera persiana per chiedere secondo voi a che casa siamo adesso e quanto impiegheremo arrivare alla 62 eh sì siamo siamo alle ultime case questo si vede da che cosa dal fatto che il limite delle risorse è sempre più vicino ma purtroppo non vale soltanto per le risorse materiali materiali seri non di carbone e petrolio che abbiamo parlato adesso vale pure per il cibo e qualcuno avrà credo riflettuto sul fatto che circa il 90% dei pesci di grandi dimensioni sono spariti dalle nostre tavole spariti noi ce ne accorgiamo meno perché c'è un processo di sostituzione continuo per cui il branzino d'allevamento ancora ti rimane oppure ma la sogliola che arriva tranquillamente a 50 anni d'età e che una volta veniva pescata dopo che si era riprodotta intorno ai 20 oggi viene pescata a 6 anni e così vale per tanti altri pesci cioè li peschi sempre più piccoli e sempre più lontani dal ciclo riproduttivo sostanzialmente la previsione che fanno coloro che studiano queste cose io nel libro sta roba la discuto è di avere un mare in cui ci saranno solo le meduse e cominciare a mangiarsene sempre in quel Giappone che vi ricordo le vendono belle liofilizzate seccate oppure brasate all'aeroporto per esempio di Sapporo è pieno cominciamo ad abituarci posso? prego io volevo fare una domanda relativamente al problema della comunicazione nel senso che la situazione generale che lei ha accennato vede la totale insensibilità diciamo della della popolazione in generale in Italia in particolare a livello politico i movimenti che si rifanno a questi tipi di ragionamenti sono un prefisso telefonico ed è giusto che sia così perché secondo me sbagliano completamente il discorso a livello di comunicazione il fatto è che sul pacchetto di sigarette c'è scritto che se tu fumi ti viene un tumore muori eccetera eccetera quindi secondo me la domanda quindi è quale tipo di comunicazione potrebbe essere efficace affinché a livello generale la popolazione e gli organi che li rappresentano eccetera si prenda coscienza perché la gente non ha coscienza io lavoro nel settore la gente non ha coscienza non hanno coscienza di queste problematiche né i politici attuali né gli imprenditori né i grandi manager che poi si pubblicano dei report sulla sostenibilità eccetera eccetera se ho ben capito la domanda in parte anch'io la penso così nel senso che la coscienza che ci sembra essere aumentata di queste cose probabilmente lo è però non è sufficiente a indurre un cambiamento significativo anche perché c'è una qui non è tanto la struttura della comunicazione oppure lo è in un certo senso ma il problema è che il danno ecologico chiamiamolo così quindi insomma quello di cui abbiamo parlato fino adesso non ce l'hai come un incidente stradale cioè se io ho una strada sotto casa in cui muoiono delle persone attraversandola prima metterò delle luci poi delle strisce poi ci metto un semaforo il problema lo risolvo perché vedo subito qual è la questione nel campo invece del danno ecologico è come se ti levassero dal conto in banca ogni tanto dei centesimi tu non te ne accorgi però alla fine dell'anno fanno una certa somma purtroppo e per fortuna il fatto che il danno ecologico si esprime in questa maniera rispetto alla nostra capacità di comprenderlo ti porta alla situazione che si diceva chi è che si preoccupa del clima quando è che ormai lo stiamo dicendo da tempo che piano piano precipiterà che tocca oggi tocca domani eccetera perché è un problema troppo più grosso di noi che potremmo fare anzi io non ho manco in serie di tutti i motivi per cui forse è una battaglia perduta e basta ma insomma che possiamo fare contro queste cose ci è stato uno sgomento non ci piace pensare che dipendano da noi prima di tutto e che poi dipendano da un cambiamento radicale di nostre abitudini che ci porterà per forza delle rinunce e chi le vuole fare le rinunce decrescere magari felicemente ma no io ho quello che ho vorrei anzi di più quindi io credo che sia proprio nel fatto che questi diciamo il danno ecologico in senso stretto la fine delle risorse eccetera sono tutti distribuiti in maniera tale che siccome noi che siccome la terra è un pianeta inerte dunque grosso e con lentezza risente di questi cambiamenti ancora non abbiamo registrato i momenti di trauma veri per esempio la fine del pesce che ricordavo prima e così pure l'esplosione del clima già ce l'abbiamo in atto però siccome ce la stanno facendo è come se fossi mitridizzato stai assumendo dosi di veleno giorno dopo giorno per cui non ti avvelenerai più con la dosa che all'inizio ti avrebbe avvelenato ce ne vorrà una più grossa c'è un trauma più grosso è ormai sicuro che se gli uomini faranno qualche cosa lo faranno solo ed esclusivamente per grossi traumi altrimenti non non se ne vede una strada questo per essere ottimisti e il senso e il senso della bellezza e come si fa non lo capire senza fare tanti ragionamenti per questo senso della bellezza questa propensione che ho visto alla perfezione alla bellezza il pensiero dell'universo del pensiero delle cose dell'unicità mi sento responsabile e consapevole ho capito però siete lei e Adriano l'imperatore perché non tanti altri si sentivano responsabili della bellezza del mondo no lo dico con ammirazione però sa che cos'è che la maggior parte delle persone in questo senso diciamo così nelle memorie di Adriano Margherito Yorsenar scrive che l'imperatore a un certo punto si sente responsabile della bellezza del mondo ma era l'imperatore del mondo quello le poteva fare cose si era appena ricostruito a Tivoli la sua villa con tutte le sue cose con le statue più famose eccetera dunque in qualche misura io pure mi sento responsabile della qualità se non della bellezza e piano piano anche quelli che stanno qui grosso modo ma il resto delle persone in Italia ci sono 5 milioni di persone che affidano il proprio futuro ai maghi quelli non si sentono responsabili della bellezza del mondo e già tanto se sono responsabili di tornare a casa la sera insomma purtroppo grazie 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 grazie